Il nuovo anno è in dirittura d'arrivo e con esso la legge di bilancio 2020 che porta con sé una serie di novità, infatto, di pensioni. Confermata la pensione di vecchiaia a 67 anni e pressoché certa la conferma di quota 100 anche per il 2020 e probabilmente anche per il 2021, completando così il triennio di prova. Quota 100 che non è altro che la somma tra l'età anagrafica e gli anni di contributi versati e dalla possibilità di congedarsi dal lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi. Terminato il periodo sperimentale di tre anni, quota 41, però potrebbe essere l'opzione più percorribile. Si tratta della possibilità di poter accedere alla pensione in deroga requisiti ordinari previsti dalla pensione anticipata, maturando esclusivamente 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica, ma bisogna soddisfare determinati requisiti. Proroga anche per opzione donna, canale di accesso anticipato alla pensione e riservato alle lavoratrici. Con la proroga, maturati i requisiti entro il 31 dicembre di quest'anno, le dipendenti dovranno attendere una finestra di 12 mesi per la decorrenza della pensione, le autonome di 18 mesi. Chi accede a opzione donna va in pensione prima, ma riceve un assegno calcolato interamente col contributivo, perdendoci circa il 25-30%. Confermata la pensione di cittadinanza, la versione per gli over 67 del reddito di cittadinanza. A beneficiarne sono i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti, con un'età pari o superiore ai 67 anni. Confermata per il 2020 anche l'Ape sociale, per i lavoratori con almeno 63 anni di età e 30 di contributi, che diventano 36 se impegnati in attività gravose.